E' un segnale, questo è importante, con le associazioni, con il mondo dell'impresa sensibile, con il comune di Napoli, così come le tantissime iniziative che ogni giorno si fanno a Napoli per i più deboli, c'è ancora tantissimo da fare, questa è una città solidale, una città che vuole eliminare le distanze tra le persone che hanno situazioni economiche e sociali completamente diverse. Insomma, vogliamo provare ad attuare, anche senza risorse economiche, tra mille difficoltà, la giustizia sociale e anche la giustizia economica, quindi c'è tanto da fare ancora a Napoli per i poveri e per i deboli. Qual è il menù di oggi? Mozzarella con insalatina, delle pennette all'aria e ferdinando, un attimino rivisitate, arrosto di maiale con patate, zuppetta di seppie gamberi e pomodorini di paghino. Un Natale per tutti, un'organizzazione imponente, chi ha partecipato? Hanno partecipato gli amici della Galleria, il nostro catering che sono vent'anni che se ne occupa con grande fermento di tutti e con l'aiuto dei volontari della protezione civile, è un bel progetto. Buon Natale e vi auguro tante cose belle!